Beh, innanzitutto complimenti per questo esordio a titolare. Grazie mille, grazie mille. L'emozione particolare e poi svegliamo questo mistero. Chi ha esordito prima, tuo o tuo padre? Esordito prima mio padre. Mio padre è esordito a 18 anni e 4 mesi e io a 18 e 10 mesi. Però non fa niente, non guardo queste cose. Sono contentissimo di giocare qui con il Pescara. È un'occasione che mi è stata data, sarò sempre grato al mister Bucchi e questo è questo. Negli archivi passeranno alla storia il tuo esordio da titolare e purtroppo questo 3-0 per il Napoli. 3-0 forse pesante. Un po' bugiardo per quello che avevamo creato il primo tempo perché alla fine il primo tempo abbiamo fatto la partita che voleva il mister. Ci siamo chiusi bene, non abbiamo fatto creare occasione al Napoli. E poi ripartiamo sempre bene sia con Caprari, con Sculli, con Sforzini. Abbiamo avuto diverse occasioni. Poi siamo stati un po' sfortunati all'inizio ripresa, appena rientrati. Quel tiro di Hiller che è stato deviato da Kosic, che un po' ci ha tagliato le gambe perché dopo il gol dell'1-0 noi ci siamo sbilanciati un po' e loro avevano spazi per fare male. Forse il vero Napoli si è visto in occasione del secondo gol, quando con tre passaggi sono arrivati in porta. Sì, ma sono veramente una squadra fortissima. Vedendoli dal vivo veramente sono forti. Soprattutto a me oggi mi hanno impressionato i tre centrocampisti. Zemaili, Hiller e Amsic. Come si muovono, come vengono a prendere palla. Sono veramente una squadra fortissima. Ecco l'ultima. Oggi per Federico Di Francesco c'è, dopo questo risultato, la possibilità di guardare al futuro? Io ti dico la verità, io penso solo ad adesso, a migliorare giorno dopo giorno con gli allenamenti. Quello che viene, viene. Io sono contento adesso, mi godo questo momento appieno perché sono veramente contentissimo. Oggi sono ordito davanti alla mia gente, c'era tutta la mia famiglia a vedermi, quindi sono veramente contento. Per me. Poi sono molto dispiaciuto per il risultato perché è un po' bugiaro. Grazie mille. Togni, primo tempo dove avete retto bene il Napoli, poi quel gol in avvio di secondo tempo ha indirizzato la partita in un certo modo. Sì, quando prendo un gol così a freddo, secondo tempo, con una squadra di qualità come Napoli è difficile. Dopo come eravamo preparati alla partita e come dobbiamo comportarsi con una squadra del genere, è normale che dobbiamo pensare più nel non possesso che nel possesso. Però quando prendo un gol così a freddo è difficile dopo riprendersi. Forse un po' più di cattiveria nel primo tempo, un gol sarebbe servito a sbloccare la situazione. Io credo che cattiveria non sia la parola giusta. Io credo che l'occasione... Cattiveria agonistica. Sì, sì, no. Credo che sia... ci abbiamo provato. Le qualità che abbiamo sono queste. Cerchiamo di fare il nostro meglio nelle situazioni per cui ci troviamo. Poi nel secondo tempo la differenza l'ha fatta il tasso tecnico del Napoli, no? Sì, sì, il tasso tecnico individuale, il tasso tecnico come squadra, su non possesso, su possesso. Una squadra che secondo me è quella che merita di più il secondo posto. Ho sempre cercato di fare le cose per bene. A volte ho sofferto un po' di più degli altri, però ho sempre cercato di fare le cose nel modo giusto. in un modo che credo che dobbiamo fare ognuno che fa questo lavoro. Ti fa piacere, perché credo che quando smetti di giocare, quello che rimane è il pensiero positivo delle persone che sono state insieme a te. Sinceramente non ho sentito nessuno, non lo so neanche a livello di contratto. Ancora il mio procuratore non mi ha detto niente. Credo che... Sono rimasto anche sorpreso di questa voce qua, sinceramente, perché non me ne aspettavo proprio. Però magari fosse vero, per quello che ho fatto fino adesso, nella mia carriera, questo sarebbe un premio stupendo. Grazie.